Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi insieme al capo della polizia Lamberto Giannini ha riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza sui migranti alla prefettura di Agrigento. Una scelta non casuale dopo l'ennesimo naufragio nelle acque antistanti Lampedusa dove nelle ultime 24 ore sono arrivate 56 persone soccorse su un barchino in avaria partito dalla Tunisia. L'hotspot è al collasso e accoglie al momento il doppio degli ospiti consentiti, più di 800. A richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla crisi che vive l'isola ogni giorno da ormai 30 anni è stato il sindaco Filippo Mannino che parla di emergenza cronica che necessita di una task force mirata alla gestione degli sbarchi oltre 2.500 nei primi cinque giorni dell'anno e lancia l'ennesimo appello affinché Lampedusa che ha salvato migliaia di vite umane ottenga il giusto risarcimento come ad esempio lo status di Portofranco. Intanto dopo Ravenna e Livorno Ancona si prepara ad accogliere le navi delle ONG Geo Barents e Ocean Viking per un totale di 110 migranti. La città adriatica si aggiunge all'elenco dei porti sicuri voluti da Piantedosi per decongestionare quelli siciliani ormai al collasso. A questi potrebbero aggiungersi presto Genova e la Spezia. Il ministro dell'Interno dopo il vertice ha difeso la strategia dei porti sicuri che risponde alla necessità di una gestione ferma dell'immigrazione dove non c'è spazio all'illegalità. Questa è unicamente una equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di possibile sbarco col compito principale di sgravare il più possibile Sicilia e Carabria. La Sicilia e la Calabria per quanto riguarda questo governo e questo ministro dell'Interno non devono essere condannati ad essere il campo profughi dell'intera Europa.